buongiorno buongiorno giovanni allora la natura la natura è diciamo tempestata da tanti alberi da tante tante verde e questa realtà io non la conoscevo è stato un piacere veramente immenso conoscerti perché hai partecipato a quel progetto voluto dai frantoliani e dagli agricoltori ad andrea in una piazza l'abbiamo diciamo abbiamo fatto uno scenario con gli aboli di vivo che secondo te cosa rappresentano sicuramente è un segno di pace rappresentano il territorio che è una cosa fondamentale per lo più hanno pure sicuramente creato un'aggregazione di tutta la cittadinanza che questo secondo me non è da poco è quello che voglio dirti questa realtà che praticamente è una delle migliori e grazie a queste realtà che tutto il verde sia di sale ricettive sia di ville e anche a livello internazionale tu dai questo apporto diciamo mettendo piante selezionate da voi con professionalità e perizia e con personale specializzato hai parlato di 250 dipendenti e quindi non è cosa semplice quindi lavori in campo lavori commerciali c'è tutto c'è una struttura ben definita con delle parti riusciamo a organizzare bene anche le spedizioni perché abbiamo anche una logistica importante sicuramente viene fatto tutto con un criterio che è la professionalità che ci ha sempre distinto e sicuramente anche l'aggregazione come dico che è fondamentale anche in azienda è sempre presente perché questo è il fattore principale noi puntiamo tantissimo alla risorsa umana che è fondamentale perché oggi voglio sempre dire chi vuole fare azienda deve credere nella persona il rapporto umano è fondamentale questo è quello che ci ha fatto venire perché in pochissimi anni senza presunzione abbiamo conquistato mercati importanti oggi mandiamo piante in tutta europa e questo solo ed esclusivamente grazie alle persone qui di caporal plant facciamo gli auguri di natale e un felice anno nuovo sicuramente auguro a tutti un felicissimo anno nuovo è un buon natale perché alla fine sia sereno come sempre in tutte le famiglie di più saluto giovanni grazie anche conosce